Lo spostamento dello scalomerci dalla stazione cittadina al polo logistico di Lemose potrebbe iniziare presto, questione di qualche mese. Lo ha annunciato Cristian Colaneri di Rete Ferroviaria Italiana nel corso del convegno di Confap Industria Piacenza che ha riunito nella sala razzi del Collegio Alberoni i principali operatori logistici nazionali e internazionali con interessi nel nostro territorio. Il trasloco sarebbe graduale e inizierebbe con la realizzazione di due fasci lunghi di binari, poi gradualmente sarà liberata la zona nord della stazione fino al completo trasferimento. Già il primo passo consentirebbe di liberare 20.000 metri quadrati promessi da tempo ai pendolari per la cronica carenza di posteggi, da collegare alle banchine con un allungamento del sottopassaggio. Ma non è tutto, nel corso dei lavori UPAC ha annunciato l'imminente avvio dei lavori per il raddoppio del terminal intermodale di Lemose, un investimento da 50 milioni di euro. Un terminale moderno che permetterà di far arrivare e far partire treni di lunghezza europea, quindi 750 metri, molto orientato all'aspetto ecologico, quindi con grua portali elettriche. Questo fa me sperare per un miglioramento dell'ambiente. Nel corso del convegno, dedicato alle prospettive future del polio logistico e al relativo impatto territoriale, è intervenuto anche il viceministro Edoardo Rixi, a cui il presidente di Confapindustria Cristian Camisa ha strappato la promessa di venire a Piacenza per un confronto sulle infrastrutture. Proprio Camisa e il sindaco Patrizia Barbieri si sono trovati concordi sul modello di sviluppo che la logistica piacentina deve seguire. La logistica può essere davvero un'occasione importante, è un'occasione importante, deve essere coniugata ovviamente con quello che è il rispetto ambientale, ma abbiamo visto che si può fare, ci può essere più logistica e più ambiente. Noi pensiamo che la logistica possa essere un valore se porta logistica integrata, centri direzionali e guardate, visto che siamo in un territorio straordinario in cui non c'è un metro quadro disponibile, siamo noi che possiamo scegliere le imprese, non viceversa. Uno speciale sui lavori andrà in onda lunedì alle 20.05 su Tele Libertà.